o allora cari nipoti questo è noa il figlio di bianca 6 stai però corti lei se lo porta dappertutto questo è lo studio di registrazione ovviamente dove lei lavora è brava perché se non lo lascia la babysitter lei se lo porta dietro forse può anche farlo mentre io oggi ho una giornata particolare sono dog sitter dei miei cinque cani che sono qui mia madre è uscita abita qui vicino e li sentite in sottofondo gli animaloidi ma non sono bravi come paloma e gabriella e mi fanno il disastro svuotano divani poltrone infatti adesso li metto eccoli qua ciao ciao